Arriva la Re Canatese, una partita difficile, però l'Arezzo deve trovare tutte le forze per cercare di ottenere questi benedetti tre punti. Ho detto bene, benedetti tre punti. Sì, è una partita da vincere, è una partita che noi dobbiamo fare di tutto per vincere, è chiaro. È completamente diversa rispetto alla ultima, perché a Cesena con Pari potremmo essere strauntenti, domani con Pari bisogna vedere come andrà la gara, però prima nella vigilia con Pari sicuramente non saremmo utenti. Comunque è un momento, dal punto di vista del gioco, positivo per l'Arezzo, al di là dei risultati, quindi credo che ci sia da essere ottimisti. Sì, giusto, completamente d'accordo, anche perché la squadra, se ripensiamo tutto il cammino fino ad ora, avrà sbagliato due o tre partite dall'inizio dell'anno, non di più. Sicché è chiaro che ultimamente nemmeno quelle, perché abbiamo fatto le ultime prestazioni veramente bellissime, ci sono tutti i presupposti per poter fare la nostra gara, anche se sappiamo che a questo livello le insidie sono sempre dietro l'angolo, guarda per l'ennesima volta che oggi, domani troviamo una squadra con il cambio allenatore, un nuovo stimolo, nuovi modi, chi lo sa, di giocare, come ci è successo a Olbia, speriamo che non si verifichi la stessa situazione. Ecco, mister, le chiedo, oltre al cambio allenatore, una squadra ferita, no, la Re Canatese, che ha perso nove volte su dieci nell'ultimo periodo, quali sono le insidie nell'affrontare una squadra che viene da una striscia così negativa? Sì, è come l'Olbia, è lo stesso discorso dell'Olbia, è chiaro che stavolta siamo in casa, un discorso un po' diverso, però l'altra dimostrazione che ha il calcio a questi livelli, ecco, dopo la sconfitta ai Renati dell'Andata, ripensateci se a distanza di un girone si capovolta attualmente la situazione, allora il Renati sembrava, sulla resta dell'onda, non so quanti punti aveva più di noi, ma certamente 4-5 minimo, se non di più, a distanza di un girone la situazione è completamente apovolta. Direi che noi siamo stati bravi anche da questo punto di vista, abbiamo passato i periodi più brutti, più belli, però globalmente abbiamo raggiunto una certa linearità. Mi sei chiesto come sta i Kuban, immagino che si tornerà alla difesa 4 domenica, si è preoccupato un po' da questa astinenza del gol di Gucci che in questo 2024 ancora non la butta da dentro? E su un periodo sì, l'attaccante, per l'entese su Kuban non è disponibile, perché è ovvio, martedì una subelussazione alla viglia sarebbe stato un miracolo a distanza di 5 giorni, non si è stato disponibile. L'attaccante è così, l'attaccante magari ora ne fa tre a fila in tre partite, l'importante è che stia bene, è passato un periodo che magari dai punti di vista fisico forse aveva bisogno di rifusare un po' però non potevamo, speriamo ce lo faccia domenica.